e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti t-shirt alla mano perché oggi giornata rossa giornata di dump io ho provato visto che l'ultima volta no sembrava che stessimo pompando un po scritto pump in diretta e come è iniziata la live è stato assorbito quel poco di da di pump scusate deformazione della giornata che c'è stato oggi proviamo a fare il contrario si sa mai che possa succedere qualcosa vabbè in ogni caso noi come al solito siamo qui per vedere con razionalità la situazione per cercare di capire in che direzione va il mercato per condividere un po delle principali notizie molti di voi mi hanno fatto la domanda ma che caspita è successo a maier a elrond l'exchange il dex il farming cosa succede sono cambiati tutti gli apr perché per quale motivo ci concentriamo anche su quello ci aggiorniamo con un'infinità di cose da dirci in questi giorni ne sono successe e poi analizziamo i nostri cari amici grafici che sono sempre qua che ci tengo in compagnia bitcoin un attimino debole oggi abbiamo perso apparentemente la giornata non è ancora terminata ma sembra che andiamo in questa direzione abbiamo perso il nostro supporto a 56.300 ed intorni e purtroppo stiamo andando nuovamente ad attaccare i low qua giù a 53.5 53.6 questo sul breve perché sul medio lungo termine sappiamo già che l'impostazione non è influenzata da questi brevi movimenti l'impostazione macroscopica che si vede meglio dal settimanale ce la da ce la danno o meglio gli high e i low che sono al momento posizionati in questo modo abbiamo il nostro high qua su a 65 il precedente high è qua intorno ai 52.500 e invece il low è a 43.000 quindi fin tanto che questi livelli sono safe sono mantenuti non c'è più di tanto da spaventarsi ecco non è quello che dicevamo anche le scorse volte non c'è ancora ragione per essere bearish è soltanto una debolezza strutturale di breve termine finché non si propaga non ci sono particolari timori però bisogna iniziare a fare un attimino di attenzione perché non c'è ancora non c'è presenza di domanda per il momento vedete che sul settimanale abbiamo una sequela di candele rosse che si sono rimangiate tutto l'ultimo l'ultimo higher high l'ultimo massimo storico e non danno segni per il momento di essere un attimino arrestate l'unico arresto dell'offerta c'è stato la scorsa settimana con l'attacco già diretto guardate a questa zona di supporto sui 53.000 assorbimento di buona parte dell'offerta e poi però ahimè nella candela di questa settimana abbiamo un follow up di nuovo rosso quindi bisogna un attimino come dire capire in che direzione vogliamo andare perché la perdita di questo supporto del vecchio high sarebbe un primo indebolimento macroscopico qua stiamo parlando di struttura macroscopica e poi se invece perdiamo i 43.000 ragazzi bitcoin è veramente in pericolo anche appunto da un punto di vista così ampio di medio termine fino ad allora preoccupazioni non facciamocene troppe anzi è sempre valido il possibile setup di su questa su questa struttura di andare a costruire una posizione che verrebbe invalidata ahimè speri anche non accada proprio dalla perdita di questo low però il macro ripeto ancora bullish ma non perdiamoci troppo adesso in questi dettagli e andiamo a vedere tenendo la nostra chart del grafico giornaliero di bitcoin giornaliero qua dietro che ci porta fortuna adesso andiamo un po' a vedere le notizie le cose che succedono partendo proprio da maier a me sarebbe anche piaciuto farvi vedere in diretta i cambiamenti ma adesso è in manutenzione e quindi non possiamo comunque vi faccio vedere quello che ha tweetato benjamin che è il ceo di elrond sostanzialmente si sono accorti detto in maniera semplice che insomma la gente farmava troppo dampava troppo e questo non è che aveva un bell'impatto no sul token max se vi ricordate nel video dove abbiamo parlato del farming su maier una delle prime cose che abbiamo detto e abbiamo sottolineato di più è stata apy folli era al 6 per cento al giorno al tempo cioè vi dico solo questo sul pool il gold max ok questo cosa comporta una selling pressure che si accumula in maniera folle su max ok che è il token che farmi perché depositando liquidità sui gold max si farmava max appunto al 6 per cento al giorno c'era la possibilità di farmare anche lk max quindi bloccando le ricompense per cos'era un anno mi pare e poi con vesting lineare per altri sei mesi quindi un anno e sei mesi più o meno se non ricordo male correggetemi se sbaglio però c'era comunque una ed era il doppio di apr no se si loccava la maggioranza era comunque a favore del farm and dump e questo chiaramente non impattava positivamente sul prezzo di max perché ha avuto comunque una settimana di dump continuo poi progredendo col tempo c'era la la tabella no temporale dove spiegavano che settimana dopo settimana le reward calavano sempre di più e quindi non era un bello scenario per max insomma perché se poi la gente non voleva più farmare cos'è che fa tira via liquidità dal pool il pool contiene max quindi uno non è che tira via liquidità e tiene max così a marcire le avrebbe venduti per i gold per poi spostarli altrove cambiali in altro quindi ulteriore selling pressure su max allora cosa hanno detto hanno cambiato la la tokenomics in questo modo cercando di avvantaggiare molto di più detta a detta loro per la salute la sostenibilità a lungo termine del prezzo di max coloro che puntavano a lungo termine quindi in parole povere coloro che loccavano le ricompense cioè hanno creato questo sbilancio folle tra i max e gli lk max dove le reward in max sono state ridotte tantissimo e quelli in lk max pompate all'inverosimile e se non ricordo male guardate nel pool i gold max 95 per cento 94 per cento delle reward vanno ai loccati e il 6 per cento soltanto vanno agli alloccati e quindi che dire si sono ridotti in maniera drastica gli apr l'avrete visto anche voi immagino e non è più molto conveniente farmare quindi su quel pool a meno che non si voglia essere esposti long a prescindere su max e su i gold lk max ok apr folle comunque ma c'è un anno e sei mesi di vesting quindi non lo so io personalmente credo che cioè non credo sono certo che non far merò più assolutamente su su questo dex perché finché c'era il 6 per cento al giorno così free ci stava alla grande ok solo che con questi cambiamenti non è assolutamente più conveniente ne ha risentito il prezzo di max ne ha risentito il prezzo di e gold quindi di fatto non è stata una gran farmata a dir la verità neanche quella dei primi giorni non so voi come vi siete trovati o cosa avete in programma di fare adesso ma io sinceramente credo che dirò bye bye mayer per il momento adesso vogliono listare anche il nuovo quello che hanno fatto con launchpad che mi pare si chiami ride e quindi vediamo se magari lì ci sono dei farm folli però ripeto qui io non sono esposto a e gold non sono esposto a max non sono interessato a farlo lato investimento pertanto io farmo solo se c'è opportunità speculativa quindi se mi buttano fuori degli apr del genere magari un cipino ce lo si mette altrimenti per me è no non so poi ditemi voi cosa ne pensate di questo cambiamento da parte di mayer come l'avete accolto se pensate che possa impattare positivamente sul prezzo di max sulla salute a lungo termine dell'ecosistema ditemi quello che ne pensate ovviamente nei commenti e nella chat poi mi avete riempito di domande sui cripto indici di bitpanda dopo che ve li ho presentati nello scorso quando è che era lunedì forse avevo fatto un post su telegram e insomma non lo so forse mi ero spiegato male allora approfondiamo un attimo di che cosa si tratta sono dei prodotti offerti da bitpanda che sostanzialmente si comportano diciamo in maniera simile a degli etf di fatto con la differenza che è come acquistare direttamente il sottostante con gli etf magari si acquistano fondi derivati eccetera eccetera qua invece se io acquisto uno di questi cripto indici io è come se avessi acquistato le coin sottostanti di fatto possiedo il sottostante che è cioè sono esposto scusate al sottostante che è posseduto da bitpanda perché sono tutti completamente collateralizzati sono spot per capirci sono tre al momento il 5 10 e 25 come dice il numero stesso sono esposti su una certa quantità di coin scelte per a eligibilità normativa perché comunque bitpanda è un exchange regolamentato in europa con tutta la compliance fatta bene eccetera eccetera e per costruire un prodotto del genere che comunque è un prodotto costruito da mvis che è una delle aziende di vanek che diciamo non è l'ultimo arrivato è uno degli asset manager più conosciuti e quindi ripeto c'è tutta una serie di cose riguardanti la compliance eccetera 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 e quindi vanno a scegliere le top 5 10 o 25 per capitalizzazione e liquidità e vengono ribilanciate ogni mese questa è la cosa comoda quindi non lo so se uno non ha voglia di costruirsi un portafoglio diversificato di chissà che tipo dove attivamente va a cambiare ribilanciare perché di fatto ci vuole bisogna conoscere il mercato e ci vuole attività allora uno può dire vabbè io mi espongo a questo indice 5 10 o 25 in base al livello di diversificazione che voglio attuare non me ne preoccupo più di tanto perché tanto viene ribilanciato per me mensilmente quindi come comodità ci può stare qua potete vedere le coin che al momento ci sono dentro dico al momento perché ripeto ogni mese in base ai cambiamenti di capitalizzazione avviene il ribilanciamento quindi se esempio solana dovesse dampare al posto di solana ci finisce dentro qualcos'altro ok sono le top capitalizzate con i criteri che dicevamo prima e quindi niente questo è come funziona il prodotto ve l'ho detto l'esempio che abbiamo fatto con solana si può fare anche al contrario se solana pompa per dire il prossimo mese incrementeremo l'esposizione su solana a scapito degli altri quattro componenti viene ribilanciato ripeto proporzionalmente all'andamento della della capitalizzazione di ogni coin questo è e 5 10 o 25 dipende perché io non sono grande fan della sovradiversificazione a dire il vero quindi per me 25 sono già troppe forse 10 è una giusta via di mezzo se proprio dovessi scegliere tra uno dei tre e è possibile anche un'altra domanda che mi avete fatto il piano d'accumulo perché io vi ho accennato che si può fare è esattamente come se lo faceste su bitcoin non so se siete già pratici di bit panda avevamo fatto un video a tempo debito magari lo rifacciamo adesso con le novità in sostanza si può impostare un piano d'accumulo con acquisto ricorrente anche con a debito diretto tra l'altro su conto corrente e anziché scegliere bitcoin per dire si può scegliere bci 10 basta tutto lì super super easy e questo è poi su bit panda ci sono tra l'altro anche un sacco di altri asset come potete vedere insomma azioni etf dell'azionario metalli quindi non lo so se uno vuole costruire un portafoglio completo su un'unica piattaforma bit panda non è non è affatto male perché poi appunto è regolamentata e non è non è una piattaforma esotica tutto questo per scillarvi il mio referral link no sto scherzando specie in primis per rispondere alle vostre domande che sapete ci tengo molto e me ne avete fatte tante allora ho detto sa facciamo giusto questa puntualizzazione e poi tac già che ci siamo insomma eccolo qui va bene ragazzi ora possiamo procedere con il resto bit dao allora bit dao il token bit in sostanza era venduto all'inizio se vi ricordate su sushi swap e c'era un bonus non so chi di voi ci ha partecipato io ve lo sto dicendo perché io ci avevo partecipato e ve l'avevo anche condiviso quindi magari anche qualcuno di voi ha partecipato all'asta iniziale su miso su sushi swap e c'era un bonus che veniva dato sotto forma di bit eth o bit sushi in base al insomma come si partecipava se si partecipava si poteva fare in eth o in sushi e inoltre va bene adesso potete andare quindi su questo link che vi fa collegare il wallet e vi dice se siete eligibili oppure no per la reward e alla fine vi aggiunge anche 0.012 eth giusto per ripagarvi delle gas fees e niente ve lo condivido perché fatelo se avete partecipato a sushi swap altrimenti li lasciate lì ecco poi a proposito di bit e quant'altro c'è il nuovo launchpad su buy bit che praticamente ne fanno uno dietro l'altro finora non c'è stato un momento di pausa quando hanno iniziato a farli li hanno piazzati uno dopo l'altro e hanno fatto tutti dei bei multipli quindi io vi condivido il fatto che tra sei giorni inizia la subscription del prossimo ma in particolare a noi interessa già a partire dal 5 dopo domani chi vuole partecipare chiaramente se avete almeno 50 bit nel vostro account iniziano gli snapshot no quindi per vedere quanti bit in media vete e poi il solito metodo di di calcolo della vostra allocazione dal 5 al 9 e poi c'è la subscription quindi insomma interessante poi qua vedo che è un qualcosa che ha a che fare con i metaversi e quando io ormai non guardo neanche più che cosa sono sti launchpad ragazzi io ve lo dico con estrema onestà io partecipo perché tanto so già che fanno dei multipli io questa non ho idea di che cosa si tratti sarà sicuramente una cosa interessante perché vedo virtual world sarà un metaverso una robin trend che ci piace ma io partecipo con tutta l'onestà del mondo poi notizia del secolo sunday swap finalmente cioè un dex credo il primo non sono informatissimo su cardano credo però che sia il primo sbarcherà in testnet il prossimo 5 dicembre quindi dopo domani e fanno un po di stress test un po di back bounty di caccia al bug vediamo se funziona eccetera eccetera per poi andare chiaramente in mainnet il mercato l'ha presa bene ma non benissimo perché in realtà ieri c'è stato un pampino l'ho chiamato solo che oggi l'offerta lo sta assorbendo e non è che sia un granché è la situazione come potete vedere la price action non è delle migliori vediamo come chiudiamo la settimana perché poi magari vengo smentito tutto alla grande il 5 facciamo un candelotto che chiude qua allora reclaim della resistenza tutto molto bello ma se invece dovessimo chiudere dove siamo ora insomma sembra che la forza di gravità abbia intenzione di continuare tuttavia insomma vediamo ragazzi al di là di tutto io non voglio fare l'hater di cardano non prendetemi per hater lasciamogli fare i suoi peer review finirà i peer review e poi basta vediamo e avremo e fermeremo anche lì io non vedo l'ora di farmare su cardano è dal 12 settembre che aspetto di farmare su cardano speriamo che arrivi poi se salta fuori un'altra roba come la è arrivato anni swap è uno dei miei bridge preferiti ok al di là di tutto ma adesso è arrivato anche è arrivata la possibilità di andare a spostare da phantom a terra e viceversa gli ust quindi se noi ci colleghiamo ad esempio a phantom aspettate che lo faccio subito eccoci phantom dunque dalla dashboard è molto comodo è questo bridge perché ci colleghiamo al network di partenza poi c'è la dashboard si cerca qua ust tack bridge action bridge e vedete che si può brigiare su terra mainnet metto il mio quanti in base te li legge in base al wallet che hai collegato poi vai a mettere vabbè qui non c'è molto da scegliere perché ust cioè da ftm a terra puoi brigiare solo ust e ma incolli qua l'address del destinatario a proposito di bridge io vi ho chiesto un altro feedback che poi mi sono segnato tutto visto che ieri abbiamo fatto la prima puntata del nostro corso di defy per principianti e vi ho chiesto un po di feedback per andare avanti me li sono segnati tutti e praticamente ho già costruito la puntata 2 e una parte della puntata 3 la puntata 2 la intitolerò 5 clickbait da dio ma no scherzi a parte è davvero quello 5 cose da sapere prima di usare la defy mi viene da ridere perché ormai insomma sono veramente laureato in clickbait ma parleremo di apr versus apy come calcolarli come non calcolarli massima sicurezza faremo un vocabolario quindi un glossario della terminologia da sapere per approcciare la defy i rischi e poi parleremo della moltitudine delle varie chain ed app quindi compareremo le gas fee su ogni chain andremo a vedere che differenza c'è così via e la puntata 3 sarà proprio dedicata al muoversi tra le diverse chain quindi parleremo dei bridge come recuperare coin mandate a una chain errata quali wallet usare per ogni chain quali bridge insomma iniziamo a costruire un po in base ai vostri feedback io vi raccomando sempre se avete dei feedback da dare di darmeli perché io ve li sto chiedendo ovunque li ho chiesti su instagram li ho chiesti su facebook addirittura che ormai non lo userò solo io probabilmente su youtube e davvero io le puntate le faccio di volta in volta quindi vorrei che le costruissimo insieme comunque tutto questo per dire che adesso si può brigiare ust da phantom a terra poi sempre riguardo al mondo terra olympus dao ha ricevuto una proposta dalla governance di aggiungere ust alle loro treasury questo è grosso per per terra perché olympus dao a parte che sta crescendo la treasury in maniera esponenziale è diventato ormai un punto di riferimento no per la defai 2.0 perché insomma lo stanno imitando un po tutti il suo modello il suo modello tra l'altro sta crescendo arriva la versione 2 hanno fatto la governance cross change e stanno facendo cose pazzesche ci varrebbe la pena farci un video secondo me ma lo faremo lo faremo e quindi niente avere anche ust all'interno di di questo di questa riserva di questa treasury è sicuramente una cosa grossa per ust perché gli permette di fare di di finire in più posti ecco di avere una maggior penetranza come liquidità non so che termine usare però ci siamo capiti e niente quindi questo è quanto poi allora ecco ip 4488 ho sentito le ho sentite di tutti i colori riguardo a questo qualcuno dice che si abbasseranno le gas fee su ethereum finalmente no calma non succede questo è un un ethereum improvement proposal quindi una proposta di upgrade di ethereum finalizzata a far pagare meno le fee ma sui layer 2 attenzione perché ve lo dico con tecnicamente ma ma non troppo perché l'ho capito io che non sono tecnico quindi lo può veramente capire chiunque c'è una funzione che si chiama call data che costa 16 di gas al momento questa funzione viene utilizzata molto sui roll up i roll up sono delle chiamate a smart contract che in sostanza è quello che fa passare no da layer 1 layer 2 certi dati l'impacchetta in qualche modo li fa passare non chiedetemi troppo ripeto non so niente e il costo di questa operazione passa da 16 a 3 quindi in questo modo i roll up costano molto meno e i layer 2 come arbitrum optimism e immagino anche starquare e dintorni che sono basati su optimistic roll ups o zk roll ups quindi ripeto si basano su queste operazioni per comunicare con ethereum avranno una drastica riduzione delle fee arbitrum non è proprio economicissimo da utilizzare adesso non so se qualcuno di voi lo utilizza ma diciamo che c'è di meglio in termini di fee ecco questo dovrebbe decrementare in maniera importante le gas fee tutto questo mentre andiamo verso il famigerato merge che io non vedo l'ora che arrivi è l'evento evento con la e maiuscola di ethereum perché quando avremo il merge mergeremo la beacon chain con la chain attuale proof of work passeremo al proof of stay che sarà il primo step verso un futuro più roseo per ethereum vediamo vediamo cosa succederà questa è solo in fase di proposta e non è ancora non è schedulata l'implementazione però immagino che come per il 15 59 avremo poi un soft fork insomma un aggiornamento come london che la implementerà ve la lascio lì poi occhi puntati almeno io sto puntando gli occhi su questo sol ice che è un sempre metaverso vr su tutto ciò che è trending al momento ma ci sono dietro degli investitori interessanti come alameda e three arrows capital quindi mi è capitato stavo guardando intorno mi è capitata sta roba detto vai diamoci un occhio seguiamolo non ci ho investito ancora anche perché mi pare che sia in fase private in fase seed eccetera e però insomma sto seguendo seguiamo vediamo che succede nel mio radar poi ultime due cose mamma mia troppa roba oggi troppissima allora uno liquid pylon pools questa è una figata pazzesca nexus protocol che è il protocollo su terra che semplifica un po il farming tramite anchor per il momento quindi borrow più earn al momento fa questo implementerà i pylon pool cosa vuol dire allora pylon per chi non lo sapesse è quella piattaforma sempre su terra che permette di investire in nuovi progetti con dei pool che vincolano gli ust che uno deposita per top tempo e danno un vesting sulle ricompense quindi il costo diciamo di questo investimento è la rinuncia che si fa a mettere quegli ust su anchor banalmente perché non è che li spendi li riavrai ma sono vincolati per sei mesi in sei mesi potevi avere l'APR l'APY del 19,5% sei mesi quindi più o meno la metà ok quindi quello è il costo di andare a vincolare all'interno di uno di questi pool però con questi liquid pylon pool lo dice la parola stessa è come applicare il liquid staking a questi pool di pylon tu vai a dare liquidità a questi pool che saranno in partnership non so come definirla tra nexus e pylon chiamiamoli pool i nexus pylon pool vai a dare liquidità in ust vincoli si i tuoi ust ma in cambio ricevi il token liquido che si chiamerà c'ha un nome che è veramente brutto da vedere ma perché c'è tutta la nomenclatura dei eccolo qua dei pool di pylon BPSIDP24M ad esempio quello da 24 mesi di vesting e di fatto si riceverà questo token che sarà utilizzabile in pool su terraswap che ho visto che vorranno fare vogliono anche creare insomma c'è scritto da qualche parte fidatevi di me vogliono creare anche dei pool su terraswap fatti apposta per insomma incentivare l'utilizzo di questi token liquidi si potranno usare eventualmente in defy magari pylon scusate nexus stessa fa dei pool con farming di psi ecco ed ecco a proposito di farming di psi se si detiene anche soltanto questi token oltre a ricevere le ricompense di pylon perché l'obiettivo è sempre quello quindi nuovi token di pylon si riceve anche ricompense in psi adesso questo articolo è molto lungo e non mi ricordo dove dice tutte queste cose ma poi se ve lo leggete vedete tutto quello che intendo e tra l'altro vedete che qua nexus ha già messo psi psi che fa intendere no alla protocol owned liquidity alla olympus dao per capirci questo è il primo passo verso la poll per loro perché perché in sostanza loro si prendono cioè il flusso è questo allora io utente ho gli ust no li deposito sul pool nexus pylon ricevo i token liquidi di nexus questi token liquidi mi danno rendita in psi magari li vado a dare in altri pool vado a farmare eccetera 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 ho questi token liquidi pylon cosa fa pylon riceve questi ust di solito li mette a rendita e si intasca lui la rendita no in cambio dei token in questo caso la rendita di anchor se la intasca nexus e cosa fa la mette nelle sue treasury ok quindi si va a intascare un po di ust li mette nelle sue treasury e cosa ci fa dei buyback delle robe varie per andare un po insomma pompare il suo token psi diciamo questo sarà lo scopo presumo e inoltre va appunto ridurre gli incentivi dei pool si ust per evitare appunto troppa diluizione una volta che avrà questo flusso questo cash flow derivante da pylon andrà a ridurre l'emissione non c'è più bisogno di attrarre liquidità no c'è meno bisogno o meglio in questo pool quindi va a ridurre l'emissione e questo è tutto a vantaggio teoricamente poi in pratica vedremo come andranno a finire le cose ma penso che può funzionare mi sembra che possa stare in piedi un'idea del genere e a vantaggio poi del del valore intrinseco di psi e questo ripeto il primo passo per la protocol owned liquidity per il nostro caro nexus protocol vediamo vediamo interessante perché un po scocciava no andare a dare ust vincolarli non avere niente è un po come lo staking manca qualcosa manca quella parte liquida quindi sono contento che alti fuori ultimissima notizia di oggi oggi vi ho fritto il cervello di notizie l'attacco che c'è stato a badger dao un attacco diverso dal solito perché non è il classico flash loan un bug nello smart contract infinite mind e robe del genere mint anzi si dice non mind mi sbaglio spesso mi correggete questo è un front end attack si chiama che cosa caspita vuol dire allora vuol dire che in sostanza l'hacker si è intrupolato nel front end il front end è l'interfaccia web più o meno è qualcos'altro che c'è dietro ma quello con cui noi interagiamo e di fatto è riuscito a captare transazioni nonché altri dati sensibili che gli hanno permesso di sottrarre i fondi ok questo è stato in maniera semplice quello che è accaduto quindi il bug era nel front end non nel nel back end quindi negli smart contract e questo è un nuovo tipo una nuova tipologia di attacco che non era non so se era mai accaduta prima in realtà ditemelo voi a me non sembra in realtà e niente quindi apre gli occhi questa cosa perché si scoprono sempre nuove nuove possibilità di attacco io non conoscevo non pensavo fosse possibile bucare il front end e riuscire a sottrarre fondi in questo modo una piattaforma defi e dicono che vedete quando detto che potrebbe essere che le ipi di cloud flare erano state compromesse cloud flare appunto è fa parte della sicurezza del front end è un plugin utilizzato da un servizio utilizzato da molti niente basta questo è tutto noi ritorniamo su btc tac col suo supportino che sta andando a marengo tac benissimo teniamocelo in vista e direi che passo la parola a voi cosa ne dite ciao luke per chi ha luna in stake tra i vari validatori c'è la possibilità di avere la parte liquida luna x luna x verrà dato a chi utilizza stader labs quindi se tu vai a direttamente a sticare tu purtroppo no si serve stader labs tu dai a stader labs stader labs fa alle sue regole per trovare i validatori e ti dai luna x questo è un po il discorso dunque referra il bit panda leggo referra le mitriggero immediatamente tac eccolo un nanosecondo e ce l'abbiamo da programmatore front end è una cosa molto difficile che succeda un hacking front end e si significa che c'era gente brava anche perché cloud flare comunque c'è un servizio con le palle come si suol dire no quindi notevole ciao luca come acquistare usdc da mettere in urna su critto.com pagando meno commissioni allora da euro dici secondo me il modo migliore a passare per ftx perché ftx cioè tu volendo puoi comprarli anche direttamente da critto.com a comprare in euro da critto.com c'è un po di spread quindi secondo me ci sono vie migliori come ad esempio ftx bonifico c'è la conversione da euro usdc c'è la fee classica del trade che comunque è molto bassa dai allora le palle dell'hacker erano più grosse anche secondo me dunque 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 mamma mia troppi messaggi troppi messaggi probabilmente c'era qualche falla potente nel codice del front end passaggio in chiaro di dati sensibili che dal front end non dovrebbero passare ragazzi mi piacerebbe sapere saperne di più ma ciao luca ti sei iscritto alla white list di tectonic ci puoi giurare assolutamente sì vediamo se sceglieranno me tra 500 ma io io ci si prova io ci si prova ciao luca conosci k di a cadena cosa ne pensi lo conosco ci volevo anche fare un video ma poi ho detto non mi sembra così interessante mi sembra più hype che altro allora mi sono fermato ciao luca secondo te conviene comprare ora cro nonostante il grafico non bellissimo per partecipare al supercharger th allora se è solo per quello no sinceramente cro va detenuto se si vuole investire in cro essere esposti a cro però solo per il supercharger secondo me non è cosa perché se non ricordo male insomma la rendita non è particolarmente elevata vediamo se ve lo trovo era sotto exchange giusto mi pareva tipo il 2 per cento supercharger eccolo allora no 32 09 me lo ricordavo più basso in oa però ma guarda ripeto anche se fosse davvero il 32 per cento non comprare cro apposta no perché comunque tu ti esponi alla volatilità di cro per guadagnare per 30 giorni e th con questo ipy che sarebbe più o meno quant'è un dodicesimo delle ipy 3 per cento no non ci sta perché se ti cala cro del 3 per cento sei già in break even non cioè se uno a cro e li detiene di per sé sono liberi allora top il supercharger è il massimo che tu metti e togli quando vuoi zero vincoli zero rotture ma comprare cro apposta non lo so non ce la vedo tanto dentro ecco poi dunque 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 vediamo dove siamo finiti che ne pensi di network mai sentito nominare mai sentito nominare cosa ne pensi del progetto remarkable è un progetto su nft metaverso nell'ecosistema kusama riesce a guardare il grafico per trovare un punto un punto di ingresso donny lo sta scillando moltissimo grazie allora io ne ho sentito parlare spesso c'è soltanto con coppia usdt difficile trovare un punto di ingresso qua molto esteso molto esteso no scherzi a parte mi è un progetto che ha tutti i crismi per essere interessante perché me ne hanno parlato più persone c'era vice in holder qua che ce l'oscillava da mesi poi mi ricordo che insomma l'ho visto saltare fuori spesso interessante erano quegli nft adattivi con caratteristiche particolari il problema è che adesso è veramente tanto esteso cioè la prima zona di minimo di consolidamento è qua giù e quindi non lo so purtroppo mi sa difficile andare a pescare andarlo pescare qui perché ritornare qui significherebbe flettere parecchio andare sull'intraday significa cambiare completamente approccio cioè andare sulla speculazione questo un po l'area 53 dintorni è l'area di primo supporto però ripeto è un approccio totalmente differente quello su quattro ore mentre più di lungo termine daily e weekly questo un po la zona la prima zona da 33 a 40 più o meno prima zona di ritracciamento però mi sa che ci sarà ad aspettare un attimino poi ciao luca purtroppo non ha fatto un stake di luna ma ho buona liquidità in usp maine psi hai un'idea di come mi conviene farmare su astro port vorrei massimizzare il farm e dunque di per erano uscite le pool con il loro peso aspetta astro port farm come si chiamava astro port lock drop vediamo 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 se lo troviamo eccolo qua allora 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 vediamo c'era la tabella dove sei dove sei eccolo no eccolo qua eccolo qua allora i pool sono questi con questa allocazione quindi soprattutto luna usp anche usp biluna luna mir usp il resto poi è un po meno quindi se tu hai liquidità libera quando ci sarà insomma la possibilità si potrà andare a dare liquidità al su terra swap e migrare il token lp quindi questo che sono i pool non c'è non c'è altro da sapere in realtà e cioè puoi convertirla tu hai detto che hai cosa avevi detto che hai adesso ti ho perso sicuramente il messaggio però puoi sempre convertirla se hai liquidità a portata di mano basta che la metti nel pool in questione poi allora ma sei tu che stai scaricando time oggi va a dire cosa sta succedendo cosa sta avuto la mamma mia basta un minimo di come a zero poi cosa è successo allora 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 vediamo vedi anche succede qua no bridge no bridge no bridge ma visto che sono su phantom vedevo prima anche qualcuno che mi diceva che è cambiato qualcosa ma io forse mi sono perso qualcosa allora dunque vediamo cosa abbiamo di bello e poi ci rimaniamo vediamo il prezzo di time a 6.400 va a zero mamma mia non mi sembra che vada zero non mi sembra che vada zero ma cosa è successo qualcosa no a parte gli scherzi primo letto che c'era ci sono state delle modifiche in wonderland non mi sono mi sono veramente perso qualcosa mi veder su twitter anche non saprei non saprei non saprei wonderland vediamo 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 no nulla di nulla non so non so non so allora andiamo avanti con le domandozze leggi tweet di daniele andiamo a vedere il tweet di daniele allora qua c'è tensione nell'aria e c'è tensione nell'aria rullo di tamburi perché adesso vediamo che daniele dirà basta ho dampato tutti i time non penso proprio allora 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 bene sì tutto bello good morning che ci sta sempre non lo so cosa succede qualcuno dice che ruga cosa succede cosa succede cosa succede dai fatemi fatemi un riassunto me li sono persi gli ultimi tweet ah cos'è 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 che hanno ribilanciato che hanno ribilanciato ok c'è su niente però boh hanno ribilanciato il treasury cioè hanno cambiato hanno venduto un po' di avax per usdt quindi effettivamente e poi per usdt per usdc e per iter quindi hanno scaricato avax e hanno convertito in iter e meme però perché dice che tutte le stable coin li hanno cambiati in meme non mi sembra che sia qualcosa che può impattare il prezzo di time cioè non mi sembra che c'entri granché allora allora continuiamo avanti continuiamo ad andare avanti continuiamo avanti sta arrivando lido su poligon davvero mamma mia io mi perdo tutto tutte ste ultime cose me le perdo beh meglio tanta roba perché non avere le gas fee di lido su su ethereum non è affatto male non è affatto male dunque calendarizzare i rebates dei principali dao per entrare uscire in successione potrebbe essere una buona strategia ma guarda secondo me non sei l'unico e quindi non più di tanto io credo che con queste a parte i dao evito tutti quelli che sono troppo esotici no perché già sono esotici di loro i principali olimbus dao wonderland e rome sono molto esotici e se quindi andiamo a cercare quelli ancora più esotici il rischio diventa folle e però su questi la strategia secondo me è migliore a perdurare un po cioè non fare dentro fuori dentro fuori ma fare compounding cioè lì che si vede di fatto il risultato e basta tutto lì questa è un po la mia idea facendo due calcoli due simulazioni si capisce subito che ne pensi di atom allora bene di questo ne volevo parlare perché oggi tra l'altro atom ha avuto una bella price action guardate allora sul daily abbiamo questo pampozzo che ha fatto sta facendo una possibile w ma la cosa più interessante era il weekly perché sul weekly abbiamo qua ancora tutto verde in realtà sarebbe tutto rosso abbiamo un primo attacco a questa resistenza attacco abbastanza spinto tra l'altro poi abbiamo 6500 questa seconda resistenza infine 7500 questi sono i tre livelli no tac 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 sì più ce ne prendiamo e più la struttura cambia no perché di fatto macroscopicamente è vero abbiamo questa punta che è brutta non è un gran che ma macroscopicamente vedete abbiamo lo crescenti e ai crescenti no di fatto prossimo ai sarà difficile che sia crescente però magari riusciamo a conservare un canale di questo tipo lato tecnico quindi la il recuperare questo livello già non sarebbe malaccio quindi chiudere la settimana qua sopra e si potrebbe anche azzardare un retest un entri su retest lato fondamentali atom io ho sempre detto che non serva una mazza perché di fatto nel mondo cosmos ogni chain ogni progetto ogni protocollo alla sua ceno e quindi la cin cosmos cioè lab centrale non serve se ognuno alla sua sicurezza i suoi validatori eccetera e invece adesso hanno proposto un miglioramento un upgrade che si chiama inter chain security che di fatto fa sì che chi mette in staking atom su dei validatori su cosmos possa utilizzarli per mettere al sicuro anche altre chain e di conseguenza ottenere le staking reward anche delle altre chain questo dà un'utilità non indifferente ad atom e se ne sta accorgendo qualcuno forse non lo so quindi sai che se questa cosa dovesse andare a buon fine io sarei abbastanza bullish su atom ti dico la verità poi 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 allora 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 per supercharger il 32% lo prendono 10 fortunati che ricevono nft che pompa le ricompense 10 per a ecco ho capito a c'è questo nuovo giochino che ci sono gli nft che ti pompano le reward su supercharger non lo sapevo quante novità che succedono quante novità perché guardi grafici nei confronti di btc guarda in realtà li guardo nei confronti di btc perché io quando guardo le altcoin le guardo in termini speculativi e quindi io mi domando ma è meglio fare aprire posizioni sull'alt o su btc lato speculativo e se la risposta è su btc perché alt btc è discendente allora non sto neanche a sbattermi a cercare l'alt altrimenti viceversa questo è un po il motivo e poi i grafici altcoin dollaro a volte sembrano bullish o sembrano bearish ma perché è bullish o bearish il grafico di bitcoin mentre l'altcoin in sé non è che faccia grandi cose questo è il discorso vedili rispetto a luna vedili rispetto a luna sarebbe interessante però no 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 dai sta sarebbe strano ciao cosa ne pensi di ai dollar mi pare uno scammino sinceramente mi sembra mi sembra un po ponzeggiante poi non lo so è solo la mia opinione ma non è buona la mia opinione ci sono un po tutti i prerequisiti classici nodi di quel tipo lì poi cosa ne pensi di shiba inu è una shit coin una meme coin anzi non shit coin quindi la classica come si definisce speculazione folle gambling che ci sta magari andare a metterci il cipino classico quando se ne dimenticano tutti ma basta tutto lì avevo fatto il video dedicato tra l'altro anche alle meme coin poi 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 una piccola analisi su e gold volentieri volentieri allora vediamo i gold eccolo allora abbiamo vabbè un weekly molto bello carico guardato un bel canale ascendente higher lows higher highs così proprio tac adesso in fase di ritracciamento sembra vediamo sul daily si un bel ritracciamento è dal ritracciamento adesso è a contatto col primo supporto con cui non sta neanche reagendo male tac no giallo mi piace il giallo qua e ci mettiamo anche tutta la zona di queste shadow perché ci sono tre shadow qui quindi secondo me dunque adesso questo ritracciamento è stato abbastanza marcatello è vediamo non fibonacci 61 e 8 61 e 8 quindi mi sembra difficile che vada diretto per dei nuovi a year high probabilità più bassa no siamo scesi sotto al 50 per cento quindi secondo me ci sta adesso aspettare che consolidi un attimino e capire che intenzioni no no eccolo e capire che intenzioni a perché in base a quelle capiremo se vuole accumulare distribuire se ad esempio fa un andamento del genere oppure un andamento del genere insomma le cose cambiano c'è da vedere identificare un po la nuova struttura io personalmente non entrerei qui perché sì adesso c'è un po di domanda magari poi rimbalza anche ma ripeto la il ritracciamento è forte sull'ultima leg up quindi potrebbe non essere facile da da gestire poi secondo me poi 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 vediamo se metto crow bloccati per la carta devo per forza lasciarli lì sei mesi oppure posso sbloccarli prima lo stesso per fare altro no sono bloccati sei mesi sono bloccati sei mesi e tra l'altro dopo i sei mesi se li sblocchi perdi benefit della carta quindi insomma devi chiederti cosa ne pensi di mtl l'ho comprato per sbaglio non ci credo questo questo è lo screenshot e lo metto su twitter ragazzi mi dispiace oscuro oscuro il tuo nickname ma questo vola su twitter fantastico scherzi a parte non so neanche cosa sia mtl vediamo metal metal bitcoin che cos'è che cosa cavolo è ma guarda così a naso non mi sembra bellissimo e poi veda un po lei non lo so guarda non so non ho proprio idea di cosa possa essere allora 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 che bello ogni tanto comunque somma bisognerebbe fare una rubrica le domande più belle non ti offendere quasi scherza datemi dell'acqua allora dopo dove posso mettere a rendita eth su arbitrum senza impermanent loss allora fammi pensare su arbitrum andiamo a vedere facciamo uno step alla volta facciamo uno step alla volta a me viene in mente vediamo 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 di force è un money market no qual è che era perché a me verrebbe in mente metterlo collaterale borroware stable coin e con le stable coin farmare tipo su curve ma 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 vediamo se di force è quello che fa per noi mi pareva fosse un money market fammi dov'è il sito web dov'è dove è di force eccolo ce l'avevo già salvato nella cronologia allora vediamo lend ce la possiamo fare eh entro domani avrai la tua risposta tu si assolutamente paziente e positivo allora eth lo lendiamo e poi si borrowa ma non sono neanche tanto alti i tassi di borro non è male come cosa non è malaccio e poi secondo me curve potrebbe essere la cosa più interessante no su cui andare a farmare che se no cosa abbiamo abracadabra su arbitrum cosa c'è su arbitrum abracadabra non credo di averlo mai aperto ma non penso neanche che ci siano grandi cose vediamo farm non ce n'è non è vero 12% però c'è su curve sul pool con meme quindi il solito pool allora andiamolo a vedere il pool meme usdt e usdc sarà dunque vediamo cosa c'è su arbitrum su curve no adesso queste cose real time so che le odierete a morte ma no voglio voglio andarci a fondo nel frattempo mi sto strozzando eccolo qua meme più 2 crv beh forse è meglio ah c'è anche quella con l'euro ah non male meme più 2 crv sulle stable da il 12% abbiamo visto no ethereum arbitrum sono tornato su ethereum dai 12% ma non mi sembra un gran che nel caso non mi sembra un gran che mentre il 2 pool classico dall'8% ma non è che ci siano grandissime cose qua su arbitrum al momento su balancer cosa ci abbiamo vediamo l'ultimo eh poi giuro torno da voi torno da voi su balancer all'inizio c'era qualcosa ma poi mi ricordo che era stato prosciugato abbastanza in fretta 14% sulle stable ma direi che non sono molto competitivi visto che ormai il benchmark è del 20% non sono granché competitivi allora 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 mi interessa molto l'argomento mi sono informato già tantissimo chi mi può consigliare un corso o qualcosa per iniziare a vedere exchange vari eccetera ma guarda ci sono tutti i miei video gratuiti li trovi sul mio canale ci sono tutti gli exchange la defy adesso stiamo facendo un corso di defy sempre gratuito quindi trovi tutto qua benissimo cosa posso fare con i miei luna mentre aspetto il 6 dicembre cosa ci puoi fare ma c'è il pool luna biluna su su terra swap che non è affatto male puoi ma no borroarli e tutto non ne valla forse luna biluna non è una cattiva scelta dai per utilizzare la liquidità nel frattempo quale browser usi brave cro a bomba cosa sta combinando cro a bomba addirittura la bomba insomma sta ritracciando sta ritracciolando è molto esteso e quindi adesso mi sa che ne paga un po' le conseguenze allora vabbè dai ragazzi adesso è il momento di vedere due grafici mi sa perché se no qui facciamo notte bitcoin sta continuando ahimè il suo ritracciamento non sembra che anche dire dumping diretta non l'ha fatto pompare anzi l'ha fatto dampare davvero no scherzi a parte un 3% non si può parlare di dump i volumi non sono ancora particolarmente alti sono in contrazione anzi guardate i volumi in vendita soprattutto sono in contrazione ci stiamo riavvicinando al supporto dei 52.500 che è il supporto principale questo qua vediamo quindi il prossimo approccio se ecco potrebbe essere interessante se va a fare uno sweep qua sotto e poi rimbalza questo potrebbe essere un primo punto di rimbalzo per l'appunto il problema sapete qual è è che adesso abbiamo ritracciato comunque abbastanza senza respiro e questo vuol dire che il primo rimbalzo cioè la vedo un po' difficile che ritorni cioè a ritestare i massimi vedo più facile che il primo rimbalzo sarà magari un attimino da capire poi riscende mi aspetto insomma una fase laterale che potrebbe durare un po' questo è l'esito più probabile secondo me poi chiaro che se continuo a dampare le probabilità verso un ritracciamento più marcato incrementano però ripeto al momento la cosa più interessante che rimane è proprio il setup di accumulazione perché il macro vi ricordo che è questo il mensile a volte apre abbastanza gli occhi guardate abbiamo chiuso la candela di novembre così quindi non insomma non c'è molto da temere no questo è ancora evidente direi c'è da temere se guardate proprio qua c'è il mensile 44.000 e se torniamo su weekly proprio lì vedete abbiamo il nostro lower low quindi se andiamo a perdere qua male male ma fino ad allora il bias bullish rimane ok questo è il mio punto di vista no macroscopicamente parlando sul breve invece si stiamo facendo lower rise lower low la struttura è ancora ribassista ma ripeto è un breve che si oppone al macro che invece è rialzista quindi la vedo così non cercherei il long adesso sul rimbalzo di turno perché sarebbe un po' pericoloso il long lo vedevo qua se andavamo a fare un costrutto di bottom qua sotto prima di allora non era ancora cosa ma basta però invece sul medio periodo con stop loss qua sotto ci può stare andando a vedere il resto abbiamo Ethereum Bitcoin che attenzione potrebbe fare un falso breakout anche lui e non sarebbe affatto bello motivo per cui vi ricordate avevano detto meglio aspettare un attimino di conferme in più mentre se questo poi diventa un bel rimbalzo tanto di guadagnato perché continua il movimento bullish su Ethereum Bitcoin cioè la rottura rialzo di questo range sarebbe roba non da poco Luna ragazzi Luna non se ne frega una mazza e continua a salire continua a estendere e stendere ed estendere e basta io sono solo che contento ma ha fatto vedete un bel breakout 3 test tac e poi è ripartito ha rotto questo range e niente male questo range è già stato un'accumulazione soprattutto e quindi adesso vediamo un po' che struttura farà sono curioso di vedere il primo ritracciamento dove arriva ma è di una bulliscezza veramente impressionante l'ha superato a proposito che oggi c'era la lotta del secolo luna versus doge e superato doge finalmente un po' di giustizia a questo mondo si di tipo un dollaro di capitalizzazione però ogni tanto qualcosa di giusto succede so che non durerà e quindi non voglio fomentare né niente conoscendo ilon musk tweet e doge flippa di nuovo però ogni tanto qualcosa succede allora 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 cosa ne pensi di Hex non ho una buona opinione di Hex purtroppo no né dei personaggi che ci sono dietro non no non mi è mai piaciuto non mi è mai ispirata per niente per niente troppo non lo so mi sembra anche lì un po' ponzeggiante come stile per quanto tempo pensi che sarà sostenibile il 20% su Anchor ancora lungo secondo me ma ripeto c'è il parametro che te lo dice c'è il parametro che te lo dice che è su MirrorTracker slash Anchor questo c'era anche un altro fatto meglio ma non mi ricordo qual è guarda che bello questa è la cosa che mi piace di più al mondo vedere la yield reserve di Anchor che continua a crescere il che vuol dire che continua a salire il capitale usato per pagare gli APY quindi non c'è assolutamente rischio al momento di vederlo calare l'APY amici amici bene io direi che intanto grazie di cuore a tutti coloro che si iscrivono che ogni tanto fanno comparire il nostro amico Carlos Matos che insomma tra poco magari lo lo sostituiremo col nuovo Ponzi BitConnect ormai è troppo è un po' troppo old school ma grazie vi ricordo che se avete Amazon Prime ogni tanto adesso vi scillo anche il link nella chat compare per collegare il vostro account di Amazon con Twitch e avere l'abbonamento gratuito se lo fate al mio canale per me è una piccola donazione e per voi a costo zero all time I in diretta di Luna anche in dollari Luna used almeno una gioia dai ah che bello che bel grafico mamma mia che meraviglia questi questi sono i grafici che piacciono a me e a chi non piacciono grafici del genere vada è un bel babam un dildone verde di Luna che spara a 70 dollari mamma mia e qua ci vuole oggi chiudiamo così ci salutiamo così speriamo che anche Bitcoin adesso si ripigli un attimino perché sarebbe veramente bello ma veramente che la candela settimanale di nuovo mostrasse immaginatevi che figata mostrare una shadow in questa zona e poi andare a chiudere di nuovo qua sopra cioè creerebbe un pool di domanda galattico però lasciamola lì per adesso vediamo ci aggiorneremo lunedì su questo io per il momento vi ringrazio per avermi seguito anche oggi e fino alla fine chi è sopravvissuto fino adesso ci vediamo lunedì nel frattempo passate un bel weekend e vediamo cosa ci combinerà Bitcoin noi saremo sempre qua ad osservarlo ciao a tutti e alla prossima